un caro saluto da francesco samani saluto tutti i miei colleghi o tutti i miei futuri colleghi in questa lezione dedicata al concorso docenti io dico 2020 e d'obbligo quasi dire 2021 vedremo come andranno le cose purtroppo mi rendo conto che sono usciti diversi manuali con scritto concorso addirittura concorso docenti 2018 successivamente concorso 2019 il tempo passa da una parte è positivo perché si ha più tempo per prepararsi da una parte negativo perché giustamente è giusto avere la possibilità di partecipare a questi concorsi e quindi di avere una stabilità economica anche perché comunque il numero dei supplenti è estremamente elevato allora in questa lezione, video lezione desidero parlare della disabilità e diciamo essenzialmente di come questa disabilità viene diagnosticata, quindi diagnosi io penso che sia importante per tutti insomma conoscere queste, avere una infarinatura generale su queste nozioni, allora per tanti anni si è parlato di problemi di handicap, quindi e in maniera volgare insomma queste persone, questi studenti, queste persone insomma con diversamente abili venivano chiamati handicappati, essenzialmente nel decennio che va dal 1960 al 1970 e ovviamente erano problematiche, lo sono tuttora, io mi rivolgo a questo tipo di linguaggio, ecco perché sto parlando con l'imperfetto, erano problematiche di tipo neuropsiliatrico nelle quali prevalentemente era presente una insufficienza mentale e quindi cosa comportava uno sviluppo neurologico incompleto successivamente si è posto come criterio alternativo alla definizione di handicap il riscontro clinico di un danno o di una lesione fisica o psichica e ci fu l'insistenza relativa agli aspetti medico-biologici poi si notò come non solo le condizioni culturali e sociali influivano notevolmente nella definizione di handicap ma anche come anche la relazione che vi era tra l'handicap e un disadattamento sociale vi ragguaglio sul fatto che le video lezioni sono online in diretta e quindi vi chiedo scusa qualora dovessi fare qualche piccolo errore eventualmente lasciatemi nei commenti lasciatemi i commenti mi fanno sempre piacere prendete appunti preparatevi insomma io ho avuto per diversi anni insomma ho preparato i miei colleghi con successo per fortuna e quindi desidero adoperarmi per rendere liberi e usufruibili le risorse a tutti comunque ovviamente queste persone che avevano handicap venivano riconosciute nell'immaginario sociale come persone che soffrivano che avevano difficoltà che le discostava da un modello di individuo socialmente accettabile tuttora purtroppo devo dire che ragazzi down x fragili autistici ovviamente non hanno una attività sociale tra virgolette nella norma però bisogna dire che sono stati sono stati riconosciuti loro tanti sono stati fatti tanti passi tanti passi in avanti e devo dire anche sono stati fatti anche dei passi in avanti anche nel modo di chiamare queste persone diversamente abili quindi l'OMS l'organizzazione mondiale della sanità ha presentato una diversa rappresentazione sociale di handicap che è entrata anche nel nostro linguaggio comune si tratta di un'interpretazione del fenomeno che indica la possibilità di una conoscenza più profonda e personale dell'individuo sono stati classificati i criteri i quali sono relazionati con l'identificazione e la conseguenza di malattie e forme morbose ma non vengono più considerate diciamo propriamente malattie quindi vengono chiamate forme morbose quindi in questa prospettiva si passa da una malattia alla visione di persone che hanno forme morbose e condizioni diciamo più che altro si può parlare di stati di malattia che vanno anche a colpire le condizioni esistenziali se quindi riprendendo l'OMS ovviamente io desidero fare una lezione accurata tutto quello che verbalizzo probabilmente a mio avviso ha una rilevanza inferiore però è importante per conseguire un filo logico tra le varie definizioni che darò e tutto quello che scrivo a mio avviso è utile che possa venire approfondito quindi l'OMS comincia a chiamare la minimazione una perdita o un'anomalia che riguarda cosa? funzioni psicologiche fisiologiche e anatomiche quindi il termine meno mazione è un termine più generale e comprensivo ed è un modo diverso quindi questo è quello che adesso di intendere le disabilità poi la minimazione può essere di tipo transitoria o permanente nel caso in cui sia permanente ci possono essere delle perdite dei difetti con una sola F o delle anomalie a carico delle strutture del corpo ovviamente incluse le strutture psichiche e più in generale mentali giustamente qualche collega o qualche studente io spero che sarete tutti i miei futuri colleghi voi studenti insomma mi ha fatto notare che la mia scrittura non è altamente leggibile io cerco di venire incontro a questo fatto verbalizzando anche tutto ciò che scrivo quindi in realtà scrivo solo delle parole chiave però qualora insomma la mia scrittura ovviamente io vi chiedo perdono vi chiedo scusa che la mia scrittura insomma non è perfettamente leggibile sicuramente questo è dovuto anche al fatto che ormai utilizzo tantissimo il computer anche per scrivere per preparare articoli scientifici non vi ho parlato molto di me in questo periodo in questo particolare periodo io faccio ricerca relativamente riguardo alla meccatronica alla robotica e produco quindi simulazioni prototipazioni e test e verifiche quindi relative a service based robot ossia dei robot un robot in particolare di servizio spaziale e finger mechanism hand mechanism sia meccanismi per lo più di tipo sottoattuato di mani e dita robotiche quindi tutto tutte quelle nozioni relative al grasping eccetera 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 è giusto insomma qualora insomma con più di qualcuno di voi sto condividendo virtualmente e digitalmente il mio tempo mi piace insomma farmi conoscere e altrettanto mi piacerebbe conoscervi meglio riprendendo il discorso quindi questo termine handicap menomazione e successivamente disabilità è stato rivisto più volte negli anni e ha avuto quindi una revisione anche rispetto al significato e al contesto sociale quindi la disabilità che cos'è è una restrizione o una carenza restrizione o carenza o carenza restrizione conseguente a che cosa una menomazione relativa alla capacità di poter svolgere o non svolgere un'attività quindi sì o no svolgere un'attività con più o meno di difficoltà quindi la disabilità che cosa rappresenta rappresenta una oggettiva difficoltà entriamo nell'ambito proprio della scuola per gli studenti nella realizzazione di particolari compiti e una difficoltà relativa al raggiungimento di target di goal ripeto quello che valeva per le menomazioni che potevano essere transitorie o permanenti vale anche per le disabilità e se con che ruolo hanno con la menomazione la menomazione la disabilità e l'oggettivizzazione chiedo scusa oggettivazione chiedo scusa per l'errore sono in diretta non caccio l'errore l'errore chiedo scusa soprattutto i miei colleghi di italiano e l'oggettivazione di una menomazione benissimo le disabilità possono venire riconosciute e certificate e la condizione necessaria è che è sufficiente che la sfera comportamentale complessivamente esprima uno scostamento evidente rispetto alle attese sociali quindi che cos'è che viene riconosciuto e certificato c'è c'è un discostamento tra la normalità tra questa linea della normalità e questa linea della disabilità quindi non è necessario aver subito una menomazione e questo scostamento è relativo allo studio al lavoro al contesto affettivo sentimentale alle relazioni sociali eccetera eccetera benissimo quindi si crea un dualismo tra due concetti opposti quali abilità versus disabilità la prima è la capacità la possibilità quindi capacità di effettuare azioni chiamiamoli compiti va effettuare i compiti ovviamente non sono solo i compiti in classe quali compiere un lavoro un progetto organizzare un programma imparare una poesia elaborare strategie eccetera eccetera e nella disabilità c'è questa difficoltà ci può essere il paradosso che una persona che abbia una menomazione ad esempio una ti scriviamo qua anche menomazione dov'è che c'è una menomazione ipocusia un sordo muto un ipovedente questa classe di persone qui potrebbero essere assolutamente abili e quindi capaci di seguire un lavoro con efficienza che possa essere considerata del tutto normale quindi ritornando alla parola handicap essa intende una condizione di svantaggio in conseguenza a due possibilità che possono coesistere scusate uno svantaggio relativo a due categorie che possono coesistere uno svantaggio dovuto ad una disabilità o ad una menomazione che limitano o impediscono totalmente o parzialmente la possibilità di occupare un ruolo che normalmente ci si attenderebbe proprio da quella persona benissimo quindi ritengo a dire che la definizione portatore di handicap è stata molto criticata quindi tecnicamente un deficit è un danno irreversibile mentre l'handicap ne rappresenta la conseguenza sociale quindi che cosa accade nel tempo che l'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità si è dotata di uno standard ha standardizzato le diagnosi quindi uno standard diagnostico e questo è molto importante quale l'ICD International Classification of Disease che è arrivato alla decima edizione ed è fondamentale per la definizione delle caratteristiche fisiologiche anatomiche e ziologiche dei disturbi umani successivamente è stato utilizzato lo strumento ICDH che pone una distinzione terminologica tra menomazione e disabilità ed handicap benissimo gli obiettivi di recupero o parziale recupero quali sono? quelli della prevenzione quelli del potenziamento quindi aiutare e migliorare la qualità di una prestazione che viene svolta il supporto o anche la sostituzione ossia se la persona non è in grado di svolgere un'attività o un'azione può essere parzialmente o completamente sostituita nel 1999 sempre l'OMS che cosa fa? revisiona la classificazione nota come ICIDH2 rispetto all'ICIDH nella quale come vi dicevo all'inizio della lezione si eliminano i termini di quali handicap pronunciato in inglese scusate e disabilità questo ricordate però è importantissimo perché perché avevano una valenza etimologica negativa e quindi introduce una terminologia più neutrale e viene introdotto al posto del termine disabilità quello di activities e si sottolinea che esso fa riferimento non a ciò che è potenziale ma a quanto effettivamente realizzato dalla persona nella vita quotidiana quindi al posto del termine handicap si introduce quello di partecipazione poi nel 2001 l'international l'international classification on of functioning disability and health l'ICF pubblica un documento definitivo quindi è la classificazione internazionale del funzionamento delle disabilità e della salute queste importanze continui quando ricordatevi la data del 2001 quindi il soggetto disabile che cosa accade non viene più identificato come portatore di una carenza ma inquadrato in base a uno schema che elenca le diverse componenti dello stato di salute e vengono determinate diverse abilità del soggetto quali sono le funzioni corporee quindi mentali sensoriali i sensi quindi la voce sistema digestivo piuttosto che metabolico funzioni del sistema cardiovascolare eccetera eccetera strutture corporee sistema nervoso sistema nervoso occhio orecchio 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 struttura dei sistemi cardiovascolari strutture collegate al movimento poi attività e partecipazione voi ricordatevi questo quindi la mobilità l'apprendimento la comunicazione la cura della propria persona l'igiene personale l'igiene personale cura della persona interazioni e relazioni interpersonali intrapersonali vita di comunità e i fattori ambientali quindi ricordatevi i CF queste quattro macro categorie servizi relazioni ambienti naturali e i cambiamenti che vengono apportati dall'uomo ambiente i prodotti e la tecnologia un'altra parola importante che potrebbe essere chiesta è la versione indicata ai bambini dell'ICF, quindi l'ICF trattino CY, quindi l'ICF Children. Quindi alla domanda che spesso o è probabile che venga fatta, che cos'è l'ICF Children? È la classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute dedicata ai bambini e agli adolescenti in particolare, quindi direzionata verso bambini e adolescenti. Quindi c'è un adeguamento ai profili funzionali dei bambini in maniera più precisa, E' importante inoltre conoscere cos'è il DSM, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. E' un documento americano utilizzato in ambito internazionale da medici e ricercatori per diagnosticare e classificare i disturbi mentali, quindi diagnosi e classificazione di che cosa? Disturbi mentali. E' stato pubblicato per la prima volta nel 1950 e in Italia è uscita la quinta edizione nel 2014, quindi per DSM-5 si intende la quinta edizione. e vengono classificati che cosa? Quindi diagnosi e classificazione di che cosa? Disturbi mentali. che vengono classificati e diagnosticati in base alle sintomatologie valutate anche su base statistica. e in Italia viene introdotto il concetto di sindrome che è un'alterazione significativa della sfera cognitiva con impatto sulla regolazione delle emozioni dei comportamenti riflette una disfunzione di tipo psicologico o biologico o evolutivo creando disagio e disabilità in ambito sociale vengono considerati il numero e la durata dei sintomi il grado di compromissione del funzionamento sociale e altre questioni una cosa veramente importante che il DSM-5 considera lo sviluppo dell'individuo lungo tutto l'arco di vita sviluppo individuo considerato lungo tutto l'arco di vita quindi all'inizio possono venire diagnosticati i disturbi relativi ai processi evolutivi che si manifestano alle prime fasi della vita poi seguono diagnosi di disturbi che si possono manifestare più frequentemente in adolescenza e nella prima fase adulta infine vengono trattati di diagnosi pertinenti all'età adulta avanzata come ad esempio i disturbi di tipo neurocognitivi io con questa direi che posso chiudere con questa prima parte mi piace me lo dimentico sempre di dirvelo ve lo dico adesso così lo dico alle persone che magari sono arrivate alla fine e sono le persone più interessate ai video che faccio mettere un bel pollice in su condividere il materiale di iscrivervi al canale di contattarmi di lasciare commenti di farmi richieste e io in cambio insomma vi do la mia disponibilità vi auguro un buon proseguimento di giornata vi ringrazio per il fatto insomma che desiderate seguirmi mi state seguendo in tanti sono onorato di tutto ciò di nuovo tanti saluti qui